Parliamo di una nuova produzione che da ora in avanti sarà online dal 14 di novembre, si chiama Bunker, una web serie firmata a Gazzera la Rosa e prodotta interamente nel Saluzzese che a partire proprio da venerdì prossimo dal 14 di novembre debuterà online sul canale YouTube della casa produttrice Vertical Green Production. Debuterà venerdì 14 novembre Bunker, la web serie creata dalla paesanese Vittorio Gazzera e coprodotta da Cristian La Rosa, attore del teatro del Marchesato di Saluzzo. La si potrà vedere online sul canale YouTube di Vertical Green Production, la casa di produzione cinematografica a basso costo di Vittorio Gazzera. Bunker parla di un uomo che per sfuggire a una epidemia di rabbia che sta flagellando il mondo si rifugia in un bunker sotterraneo e lì sotto insieme a lui c'è un orso di peluche, Mordred, che è il suo compagno di disavventura e non è un tipo così raccomandabile, ecco quanto vorrebbe sembrare a prima vista. 12 puntate della durata di 10 minuti che raccontano attraverso la metafora del bunker la fuga dalla propria esistenza e il rifiuto ad entrare a far parte del mondo degli adulti. Di qui l'immagine iconica dell'orso peluche simbolo dell'infanzia. Girata interamente a paesana nel pub New Wellington può contare su un repertorio musicale davvero speciale. La musica è stata affidata totalmente degli artisti esterni, dei musicisti professionisti e non, provenienti da tutto il mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, da Israele addirittura, alla Russia, dall'Italia naturalmente all'Inghilterra. Uno di questi fili inglese, molto 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 importante nella scena musicale ambient, ci ha dato il permesso di utilizzare la propria musica nel nostro show. e particolarità è che tutta la musica è stata concessa gratuitamente, quindi non è stato speso un solo euro per poter utilizzare della musica che comunque viene venduta online. Quindi è stato un moto di fiducia da parte di questi artisti che non mi conoscono verso un progetto che invece hanno intravisto essere buono, essere interessante.